Salve bibitini e bibitini e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con gli acquisti manga parte 1 del mese di aprile. Questo per il semplice motivo che sono stato super impegnato buona parte della settimana e di conseguenza non ho avuto praticamente tempo per scrivere, realizzare e addirittura pensare ai contenuti più elaborati. Di conseguenza, e penso che nessuno se ne andrà a lamentare, questo quarto mese del 2023 sarà caratterizzato dal doppio videoacquisti, dalla doppia lista della spesa. Ah, e mi stavo dimenticando, ci tengo ad augurarvi buona Pasqua. Spero possiate mangiare tanto cioccolato, ma quanto basta per non star male, ovviamente. Fate anche gli auguri, ora potete correre in cucina a prendere dei popcorn, una bibita fresca, o meglio, dell'uovo di Pasqua, una bibita fresca, per cui si avvia meglio questo ultimo contenuto del vostro Malta. Perché questo è tutto quello che ho comprato in questa primissima parte di aprile, ma prima di farciò, come sempre, sigla. E come da prassi ormai per questa tipologia di video, vi voglio ricordare che in descrizione è presente il link per Mangamè. Fumetteria online con l'acquario ormai collaboro da più di due anni e 150 persone circa hanno utilizzato il codice supporto Malta, quindi grazie mille. Vi ricordo che inserendolo in fase di acquisto potete supportarmi e inoltre avete il 5% di sconto su tutte le nuovissime uscite e la spedizione è gratuita sopra i 39 euro. Che cosa state aspettando? Ve lo lascio qua sotto, andate a prendere i vostri bei fumettini. Dato questo, possiamo cominciare partendo, come sempre, da Planet Manga. E partiamo a bomba, con 3AJX volume numero 24, prezzo di 7,90 euro. Ecco a voi la stupenda cover di questo numero con due bellissime donzelle in primo piano. Io non mi ricordo assolutamente una sega di questa storia. A partire dal volume numero 20 circa ho completamente rimosso qualsiasi cosa inerente a questo manga. Come ho già avuto modo di dire più volte, è un fumetto che mi piace, con una buona storia, buoni personaggi, ma soprattutto una dose massiccia di fanservice, la quale però, per quanto presente, non è che impatti prevalentemente sulla trama, anzi, è più di contorno. L'unico problema è che Planet non lo ristampa, di conseguenza se per qualche sciagurato motivo qualcuno di voi avesse voglia di recuperare 3AJX, non potrebbe farlo, a meno che non lo trovi sui siti dell'usato a un prezzo abbastanza conveniente. Proseguiamo con Guitar Shop Pro Z, prezzo di 7,50 euro. Ecco a voi la bellissima copertina di questo numero. Trattasi di uno dei due manga di Tsutomu Takahashi usciti durante il mese di marzo in Italia. Ho deciso di prendere Guitar Shop Pro Z e non Jumbo Max per il semplice motivo che è più breve, difatti sono usciti solamente due numeri per ora. La storia vede questi due negozianti che lavorano in un negozio di chitarre e si occupano innanzitutto sia di vendere ma anche di aggiustarle. Almeno sicuramente aggiustarle, venderle non lo so perché non l'ho ancora letto. E da qui parte l'incipit della nostra storia che non vi voglio andare a spoilerare in quanto penso che ognuno si debba gustare un volume senza farsi spoilerare dai content creator il loro contenuto. Essendo un grande amante della musica, soprattutto quella rock, hard rock e metal, non potevo farmi scappare quest'opera di Tsutomu Takashi che attendevo con parecchia trepidazione. E niente, vi farò sapere maggiormente magari in altri video. Lo stile dell'autore però è inconfondibile. Andiamo avanti con Spy Family volume numero 10, prezzo di 5,20 euro. Ecco a voi la stupenda cover di questo numero. Tetsuya Endo, a me piace tantissimo il tuo manga. Lo reputo uno dei migliori comedy usciti negli ultimi anni, in quanto presenta personaggi ben caratterizzati ma soprattutto una storia molto divertente. Però ci possiamo dare una mossa per favore? Sono praticamente 5 volumi che non succede un cazzo a livello di trama principale, non si fanno progressi. Agna non prende stelline, Lloyd fa veramente pochissimi passi in avanti con l'indagine, e Yor, per quanto gnocca forte e quanti altri aggettivi positivi possiate mettere di fianco al suo nome, non sta facendo quasi una mazza, a livello proprio di trama principale. Quindi ci muoviamo per favore, che sennò qua arriviamo a 150 volumi senza che succeda una mazza. Ultimo numero di Casa Planet è il volume numero 2 di Bentornato Alice. Ed eccolo qui, prezzo di 7 euro. Meravigliosa anche questa copertina, bravo scimi. Se dovessi trovare una parola per descrivervi, questo volume che stringo tra le mani è, senza ombra di dubbio, malato. Succede di tutto all'interno delle sue pagine, tante cose indicibili, altre meno indicibili, limoni, non limoni, mezze molestie, se così possiamo chiamarle, e quant'altro. Però so benissimo che Ushimi è così, parla tanto di sessualità e lo fa in modi diversi, sia in maniera più esplicita, ma anche in modo più implicito. Vedremo come la storia andrà avanti, comunque mi sta piacendo davvero davvero tanto. E ora ci spostiamo in casa Star Comics. 1, 2, 3, 4 e 5 di Sailor Moon, nell'edizione da poveri, diciamo. Copertina del volume numero 1 con Usagi in primo piano, copertina del volume numero 2, 3 con Sailor Mars, 4 con Sailor Jupiter e infine 5 con Sailor Venus. Se mi seguite da un bel po' di tempo saprete che circa un annetto fa inizia a recuperare l'Eternal Edition, altra edizione appunto di questa serie. Per quanto però ami Sailor Moon non mi sentivo di spendere 15 bombe a volume per 10 volumi appunto che compongono tutta la serie in quell'edizione, di conseguenza decisi di venderla, ma ho voluto mediare al mio errore comprandomi i primi 5 numeri dell'edizione da poveri. Chiamiamola così perché è più bello, mi piace di più. In ogni caso questa serie in Italia è storica. Se siete cresciuti a metà degli anni 90 e inizio degli anni 2000 avrete visto sicuramente Sailor Moon almeno una volta su Italia 1. E di conseguenza trattandosi di una serie della mia infanzia ho deciso che era giunto il momento di recuperarla. Ed eccoci qui, i primi 5 numeri sono stati recuperati, li ho già letti, anche perché comunque ricalcano la stessa storia dell'Eternal, e devo dire che mi piace parecchio. Andrò sicuramente avanti nei prossimi mesi, quindi preparatevi. Restando in tema maghette, Card Captor Sakura volume numero 7 in questa nuovissima, bellissima edizione al prezzo di 10€. Le copertine comunque sono una più bella dell'altra, mamma mia. Pian piano mi sto cingendo al concludere questa serie, infatti mi mancano solamente i volumi numero 8 e 9. Non mi aspettavo potesse piacermi così tanto, sono rimasto parecchio sorpreso dalla qualità generale del manga delle Clamp, poiché i personaggi, storia, trama e sceneggiatura sono davvero ben realizzate. Questa edizione poi è una meraviglia per gli occhi, non vedo l'ora di poterla vedere esposta fieramente nella mia libreria, nella sua interezza. Proseguiamo con un manga romantichino, per citare la mia amica Daphne, vi lascio il suo canale in descrizione. A Sign of Affection volume numero 5, prezzo di 5,90€. Ecco a voi la stupenda gobertina molto verde di questo numero. Onestamente devo ancora leggerlo, di conseguenza non posso dirvi chissà che su questo volume. Però in linea generale la serie mi sta piacendo davvero tanto, Sumo Rescita è bravissima nello scrivere la sua storia, la romanza va avanti spedita e in maniera molto coerente con i personaggi e il loro comportamento iniziale, e dunque mi sento di consigliarvelo perché seppur sia cringe in qualche contesto risulta davvero molto godibile la lettura. E poi i disegni sono meravigliosi. Claymore 5, prezzo 5,90€. Ecco a voi la meravigliosa cover di questo numero con Teresa in primo piano. Non vi voglio dire niente, poiché oggi ho avuto modo di parlarne più e più volte su questo canale, però possa bastarvi sapere il fatto che il mio pipo durante la sua lettura era incontenibile, dice Mentum in here. Quindi se ancora non l'avete recuperato andate subito in fumetteria, prendetelo e leggetelo, fatevi questo favore. E questo volume che vedrete ora penso sia stata la spesa più stupida che abbia mai avuto modo di fare durante tutta la mia carriera da lettore di manga. Difatti ingolosito dal suo prezzo sul sito di libraccio sono andato a recuperare l'anime comic del film di Broly. Eccolo qui in tutta la sua poca bellezza, io l'ho pagato 3,80€ ma il prezzo di copertina è di 7€. Guardate la cover, forse l'unica cosa salvabile di questa monnezza. Ci tengo a permettere una cosa, il film di Broly per quanto riguarda la filmografia di Dragon Ball Z è il mio preferito in assoluto. Quando ero più piccolo l'avrò visto centinaia di volte e non sto scherzando, ma qui non si capisce un cazzo. Nonostante lo sappia a memoria, non sono riuscito a capire niente di quello che stava succedendo. Quindi? E ora J-Pop viene a me. Rifacciamoci gli occhi parlando di un mangabello. Dan da dan, prezzo di 6,50€. Ecco qui la copertina del volume numero 5. Irriverente, divertente, sboccato, spinto. In qualche modo anche innovativo. Dan da dan è tutto questo. E se con questi aggettivi ancora non avete capito il mio parere su questa serie, vi dico ora esplicitamente che mi piace tantissimo. Una delle migliori uscite del 2022. Non c'è una singola pagina in 5 numeri che mi abbia annoiato, che mi abbia fatto chiedere perché ho comprato questa cosa. Nel senso negativo del termine ovviamente. Perché alcune situazioni sono davvero tanto così particolari che magari vi potreste chiedere perché l'ho comprato, ma nel senso positivo in quel caso. Bellissimo ragazzi, io ve lo straconsiglio, mi sta divertendo tantissimo e aspetto ogni numero come se fosse la venuta del messia. Komi 22, prezzo 5,90€. Ecco a voi la stupenda copertina con Komi in primo piano. Vabbè ragazzi, almeno un volume al mese di Komi. Non sto a ripetermi per l'ennesima volta su quello che ne penso. È bello e Komi è una waifu, vi basti sapere quello. Oshinoko. In particolar modo sono qui col volume numero 7. Copertina davvero super quest'oggi. Ripeto per la milionesima volta di non fermarvi al volume numero 1. Poiché dal numero 2 la storia cambia completamente. Non voglio spoilerarvi perché secondo me dovreste leggerlo. Ed è folle ma stupendo. Veramente, veramente incredibile. Akakazaka può calpestarmi dopo questo manga. E ora, Goen. 6S o 6M, volume numero 2. L'ultimo di questa serie. Prezzo 6,95€. Ecco a voi la sua meravigliosa copertina. Sarò sincero, questo secondo numero mi ha fatto abbastanza schifo. Per il semplice motivo che non succede niente se non nelle ultime 20 pagine. A livello di trama, intendo. Nelle restanti 130 sono loro due che fanno cosacce scambiandosi ruoli e bla 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 bla. Risparmiate i vostri soldi, fatevi questo favore perché non è neanche buono come Manga Ichi barra Mezzo Entai. Serie più carina invece lo è Corpi Solitari. Infatti sono qui col volume numero 2. Prezzo sempre di 6,95€. Molto carina questa copertina. Allora, sarò breve e coinciso. Il primo numero mi è piaciuto per quanto riguarda l'aspetto della trama e della caratterizzazione di alcuni personaggi. Però ha un grandissimo problema. I due protagonisti mi stanno sul cazzo. La coppia di marito e moglie in crisi matrimoniale praticamente mi stanno davvero antipatici. E hanno dei tratti caratteristici che non mi fanno impazzire. Spero però di essere già smentito in questo secondo numero che stringo tra le mani. Questo perché comunque ho buone aspettative per quanto riguarda Corpi Solitari in generale come opera. Vediamo se vengono mantenute. Ve lo farò sapere. Ultima casa editrice, ma non per importanza, Magic Press. Ovviamente non potevo che non andare avanti con il mio recupero di Redo Filler, volume numero 9, prezzo di 7€. Ecco a voi la stupenda copertina di questo numero. Chi è che scrive la storia qua? Ruizukiyo, Ruizukiyo. Perché ti sei andato a complicare la vita? Era una storia di vendetta già scritta. Lui si vendicava, faceva quello che voleva fare con tutte le altre donzelle e i maschietti presenti all'interno della tua storia. E basta. Invece no, dal volume numero 7 è deciso che era bello complicarti la vita andando ad aggiungere elementi alla storia che nessuno fotte qualcosa. Era una storia, ripeto, già scritta. Potevi finirla in otto numeri, invece andiamo avanti perché i soldi sono belli. E mi ha un po' rotto il cazzo onestamente parlando. Però andiamo avanti perché comunque rimane salvabile in qualche modo. E un po' ci sono affezionato. Però ti prego, taglia corto, altrimenti te lo taglio io il manga. E questi erano tutti gli acquisti fatti dal sottoscritto durante la prima metà del mese di aprile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, ma soprattutto ditemi voi che cosa vi siete regalati. Detto questo vi voglio ricordare che in descrizione sono presenti tutti i miei social. Telegram, Instagram, il canale Viola e bla 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 bla. Venitemi a seguire anche su quelle altre pettaforme, mi raccomando. Iscrivetevi se ancora non l'avete fatto, mettete un bel mi piace, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati. Detto ciò noi possiamo salutarci e vederci in un prossimo video. Ciao e buona Pasqua.